L'insetto trovato in una confezione di pane a fette martedì scorso era solo la punta dell'iceberg. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, in collaborazione con il Servizio Igiene dell'ASD di Bari, hanno chiuso un panificio del Rione Carbonara che riforniva menze universitarie, militari e ospedaliere, tra cui il policlinico. Nello stabilimento che produce circa 30.000 panini al giorno, i militari del NAS hanno trovato un quadro igienico-sanitario davvero precario, riferiscono gli investigatori. In particolare hanno rinvenuto sul soffitto un canale fognario grondante e liquidi che si riversavano su teglie per focacce arrugginite. Nei locali c'erano vecchie attrezzature e macchinari per la preparazione e cottura del pane insudiciati. Porte, finestre privi di sistemi contro l'intrusione di insetti, pareti umide, scrostate e annerite da muffe. Nel vano adibito a depositi e alimenti, inoltre, i militari hanno rinvenuto sacchi di farina vicino a materiali vari, tra cui pezzi di motocicletta. Vanni attigui al laboratorio adibito a deposito di olio, farine e semi lavorati privi di corrente elettrica. Oltre al precario stato di igiene, il NAS ha accertato anche una variazione planimetrica dello stabilimento non autorizzata dall'autorità amministrativa. Contestate dunque violazioni amministrative per un valore di circa 10.000 euro. Grazie. Grazie.